Grazie a tutti Ciao ragazzi qui sul mio canale Allora oggi vi spiego una cosa Per un po' fino agosto non farò più l'episodio di Vanquish Perché faccio tante cose quindi non ho tempo di caricarle tutti Ovviamente siamo rimasti al vecchio episodio che sarebbe il 12esimo episodio Cominciamo per la prima volta una partita online con Ghost Recon The Future Soul Diet Ovviamente è un gioco bellissimo Da oggi potete comprare su Xbox Live a soltanto 9,90€ Quindi ragazzi compartevi lì Che è troppo bello e anche meno caldo in tutto il mondo Oggi giocheremo molti giocatori Faremo una partita online e poi basta Visto che la partita dura al massimo 10 minuti Quindi potrebbe anche allungare un po' il video Ovviamente lo farò vedere tutto intero Qui è stata tutta una parte ragazzi Bello eh? Non c'è nessuno Figo Entra in una partita vuota Bene Trovate la partita adesso giocareci online Ovviamente qui su Ghost Record Non che rifiuti Ghost ma Ghost Record Che sarebbe il primo Ghost fatto A me piace perché si gioca in stessa persona Non in prima persona Si gioca in stessa persona Ovviamente faccio vedere come il gameplay Questa cosa sarà un gameplay Perché vi dico anche Che per un po' smetto di giocare a Vanquish Perché devo fare anche altri video Ciò che vai che stanno uscendo Quindi devo fermare la stagione Vanquish Poi la riapro ad agosto Quindi tranquilli Chi è Chi li piace Vanquish Aspetterà fino agosto Poi escerà il tredicesimo episodio Ovviamente il 12% è già uscito oggi Che è venerdì Questo video lo farò domenica Quindi questo video escerà domenica Quindi ragazzi Stiamo ottimismi Metto le cuffie perché c'è uno che ha le cuffie E io non voglio sentire Non voglio sentire nessuno Anche se non le metto le cuffie Lo sono messo Vai E comincia la partita Aspettiamo ancora in attesa Dai Via 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 La vera che qua si corre con una La vera che qua si corre con una Prendetelo Sensore video attivo Come che sono fatto uccidere sto stronzo? Non è un fumo affatto Rifornimenti presi Usateli a piacimento Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Madonna. Ecco. Ma che... Vabbè... Stavo morendo... Ma vaffanculo, cioè... Tutto il cuore vaffanculo, cioè... Dovete aiutarmi, mi ammazzo, mi fanno mortire. Vamos. Ehi, mi stavo hackerando! I rifornimenti sono nostri, bel lavoro. Abbiamo trovato un generatore EMP, piazzate una carica e tiratelo giù. Stavo bloccato! Attendete, sto hackerando un feed. Mi sto hackerando! Intercetto un feed nemico. Mi hanno compromesso il feed! Vaffanculo, mi hanno ucciso da qui. Per non essere hackerato. Rinasco da zero. Muori! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Eh, vaffanculo! Si! Mi hanno bisogno! Ehi, via e, via! Ma vaffanculo! Ik distingà! Ehi, magari. Ehi, una cazbi! Ehi, la cazbi! Ehi, la cazbi! muori Merda Mi hanno hackerato Bastard Minchia in treno Madonna E quanti cacchi erano Direzione Alfa Granata Sono nei guai Datemi una mano Mi serve aiuto Aiuto Sono compromesso Guarda Mi ha ucciso così Bastardi Merda Uno l'ho ucciso Merda Merda Sensore video partito Ricordamenti nell'area di azione Prendetevi Mi serve una mano Giù la testa Granata Granata E' un po' bloccato E' un po' Automata BᴈᴍᴨᴥᴭᴍᴹᴄᴊĪ no un bastardo la replay io ho trovato la telecamera che coglione a 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 il nemico ha preso il carico di rifornimenti chi l'ha ucciso uno ciao si ma questa presa non finisce più c'è un carico di rifornimenti nella vostra area prendetelo fanculo la madonna manca manca un 2 minuti partito un 2 minuti prendi mai e lo peccato uno grande jacopo alla cazza di cana sensore video partito sensore video attivo manca un minuto siamo passati in vantaggio prendo una mano cazzo cazzo il abbandonati me ha chierato e mi ha ucciso Il nemico presiede i rifornimenti, riprendetevi muori bastardo Abbiamo perso bene, finisce così il mio partito che ho fatto online Vi lascio questo ultimo video, visto che Vanquish lo riapriamo ad agosto Per ora vi saluto con Ghost Record Ciao belli Grazie per la visione